Perché secondo me è utile che a casa capiscano che magari se quel problema c'è stato, oggi per esempio siamo più pronti. Prego, Presidente. Guardi, oggi siamo sicuramente molto pronti, oggi siamo sicuramente attenti a ogni minimo dubbio. E' chiaro che fino a qualche settimana fa qualcuno aveva lanciato l'allarme, però le rassicurazioni che ricevevamo erano tali per cui l'asticella non si è alzata come avrebbe dovuto forse alzarsi. Anche se, le dico, è ben difficile riuscire a porre in essere qualunque tipo di difesa in un momento in cui nel nostro paese non esisteva ancora l'infezione, ma soprattutto in un periodo in cui era al culmine... L'influenza. Quella sì che è un'epidemia di influenza, quindi lei capisce che riuscire a conciliare le due situazioni era oggettivamente molto complesso. Noi avevamo milioni di persone che sono state colpite dall'influenza. Presidente, grazie per essere stato con noi e buon lavoro, davvero, buon lavoro. Grazie a lei. Alessio, che succede?